Rapinato un corriere a Canicattì, indagano i carabinieri. Incidente stradale a Bigini nelle vicinanze di un centro commerciale, due feriti. Caltanissetta, balli e musica senza licenza, scatta la sanzione per il titolare di un circolo sportivo. Rissa a San Leone, nove segnalati per l'episodio risalente alla notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre. Disordini dopo Acragas-Profavara di Coppa Italia, processo per direttissima per 5 tifosi. Ben trovati, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. A Canicattì un corriere è stato rapinato da due giovani, indagine dei carabinieri. Un corriere di 37 anni è rimasto vittima di una rapina in via Pico della Mirandola a Canicattì. Il giovane, dopo aver effettuato una consegna, è stato avvicinato da due ragazzi a bordo di un ciclomotore, i quali, brandendo un coltello, lo hanno minacciato, costringendolo ad aprire i portelli del furgone utilizzato per la sua attività, facendosi consegnare un contenitore con all'interno 31 pacchi di piccole dimensioni. Il corriere, una volta che i due rapinatori si sono dileguati, ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i quali hanno raccolto la testimonianza dell'impiegato dell'azienda di trasporti, per poi avviare le ricerche dei due malviventi. Purtroppo i due autori della rapina sembravano spariti nel nulla, visto che non è stato possibile rintracciarli nell'immediato. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali filmati registrati dalle telecamere degli impianti di sorveglianza presenti in città e anche installati all'esterno di attività commerciali e altre strutture. Da capire anche se i due rapinatori cercassero proprio il contenitore rubato, effettuando quindi un colpo mirato. Incidente stradale incontrata a Biggini, due feriti. Sentiamo il servizio. Due persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato questa mattina incontrata a Biggini, tra la zona industriale di San Cataldo e Caltanissetta. A scontrarsi un'auto e uno scooter. Le conseguenze peggiori le ha riportato un nisseno di 41 anni che non era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi e che presentava anche mancanza di sensibilità agli arti inferiori. Ha invece accusato un trauma addominale una giovane di 36 anni di origine cinese. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Caltanissetta, balli e musica senza licenza scatta la sanzione per il titolare di un circolo sportivo. I particolari? Il titolare di un circolo di tennis e padel è stato multato dai poliziotti della divisione amministrativa della Questura per non essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza necessaria per l'organizzazione di serate ed eventi ed è stato anche denunciato in procura per non aver osservato le disposizioni delle autorità, visto che la Questura lo aveva già diffidato a svolgere attività imprenditoriali non autorizzate. Gli investigatori in una delle scorse serie hanno eseguito un controllo all'interno dell'attività. In quel momento era in corso di svolgimento una serata danzante con tanto di postazione per la diffusione musicale e sul posto erano presenti circa 80 persone, alcune delle quali non tesserate, nonostante l'ingresso fosse riservato ai soli soggi. I poliziotti hanno eseguito anche una serie di controlli in altre attività e secondo quanto accertato dagli investigatori si sono registrati numerosi casi titolari di bar, ristoranti e pizzerie che per assicurarsi maggiori guadagni organizzano eventi musicali dal vivo pubblicizzandoli sui social network senza essere in possesso della necessaria licenza di pubblica sicurezza, violando così le attuali disposizioni di legge e anche in questi casi sono scattate le diffide. Rissa San Leone segnalate nove persone rintracciate grazie a un video. Nove giovani, sette minorenni e due maggiorenni sono stati denunciati a piede libero per la rissa che si è scatenata probabilmente per futili motivi all'esterno di un locale nei pressi del porticciolo di San Leone, Lido Balneare di Agrigento. A tutti i giovani è stato anche applicato il DASPO per effetto del quale gli indagati non potranno prendere parte a manifestazioni sportive né come spettatori né tantomeno come partecipanti per un periodo compreso tra i due e i tre anni. La polizia è riuscita a ricostruire con precisione i dettagli dell'accaduto grazie alla diffusione di un video della Maxi Rissa che alcune persone presenti sul posto hanno realizzato con gli smartphone per poi diffonderlo in rete facendolo diventare virale. Dalle immagini è stato quindi possibile individuare le persone coinvolte che risultano essere senza precedenti alle spalle. Adesso si attende che la procura ordinaria di Agrigento e la procura dei minori di Palermo competente sul territorio agrigentino per i reati riguardanti persone minorenni chiudano le indagini. Il commissario capo della polizia di stato Calogero Diana lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Il questore Emanuele Ricifari gli ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l'infaticabile impegno profuso con indiscusse qualità umane e professionali in questi lunghi anni di servizio, si legge in una nota diffusa dalla Questura sulla pagina Facebook. Diana ha iniziato la sua carriera alla squadra mobile di Caltanissetta dove è stato a capo della sezione narcotici fino al 1992. Dal 2019 al 2022 ha ricoperto diversi incarichi. Disordini dopo Acragas-Profavara 5 tifosi a processo Scelte processuali diverse per i 5 tifosi dell'Acragas finiti nei guai per gli incidenti con la polizia che si scatenarono all'esterno dello stadio Esseneto di Agrigento dopo il match di Coppa Italia tra Acragas e Profavara dello scorso 28 agosto. In tre hanno infatti chiesto la messa alla prova e quindi la possibilità di svolgere lavori socialmente utili per un determinato periodo, al termine del quale, qualora abbiano dato prova di un reale percorso di reinserimento, il procedimento penale verrebbe dichiarato estinto senza conseguenze sulla fedina penale. Un quarto imputato è invece chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e quindi sulla base di quanto al momento contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, mentre il quinto procederà regolarmente in ordinario con il dibattimento. I cinque tifosi sono finiti a processo per direttissima, con l'udienza che si è aperta davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Fulvia Veneziano, subito dopo la convalida degli arresti. Lo scorso 28 agosto, secondo la ricostruzione investigativa, i poliziotti che svolgevano il servizio d'ordine all'esterno dello stadio vennero bersagliati da un lancio di sassi e bottiglie di vetro, mentre cercavano di impedire contatti ravvicinati tra la tifoseria agrigentina e quella favarese. Tre poliziotti rimasero feriti e nei giorni successivi vennero eseguiti sette arresti ed emanati nove DASP. Le prossime udienze sono fissate per il 22 e il 29 settembre. Si rinforzano gli organici dei centri per l'impiego della Sicilia con l'assunzione a tempo pieno indeterminato di 264 nuovi funzionari. Sono state approvate infatti dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana le graduatorie definitive relative ai quattro diversi profili previsti dal bando del concorso pubblico per complessive 537 unità di personale. Le graduatorie sono state proposte dalla Commissione Esaminatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, sommato al punteggio attribuito ai titoli di studi e di servizio e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza. Per l'assegnazione dei 273 posti rimasti vacanti al termine della procedura concorsuale, l'assessorato regionale della Funzione Pubblica ha già pianificato l'indizione di un nuovo concorso. Nell'agrigentino danneggiato un vigneto con 600 piante aperta un'inchiesta. Il servizio. Ancora un caso di danneggiamento all'interno di un vigneto. Stavolta è toccato al proprietario di un fondo agricolo di Campobello di Licata vedersi invadere il terreno e subire l'abbattimento di almeno 600 piante di vite. Nelle scorse settimane episodi simili si erano registrati a Canicattì e Annaro. Il modus operandi è sempre uguale, intrufolarsi nella proprietà, tagliare i tiranti che reggono le piante in modo che queste ultime finiscono a terra. Un danno non certo di poco conto, l'uva era infatti pronta per essere raccolta. L'imprenditore agricolo, un uomo di 46 anni originario di Ravanusa, ha trovato l'amara sorpresa quando si è recato nella sua proprietà e non ha potuto fare altro che presentare denunce ai carabinieri. Al momento la persona offesa sembra sostenere di non avere idea di chi possa essere l'autore del gesto e nemmeno sui possibili motivi. L'inchiesta non si presenta affatto semplice, anche perché nella zona non sembrano essere presenti impianti di videosorveglianza. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sta organizzando il corso di formazione obbligatorio per operatori di tatuaggio e piercing. Le lezioni inizieranno nel primo semestre del 2023, ma tutti coloro i quali sono interessati ad iscriversi devono farlo entro il prossimo 10 ottobre. Gli interessati, si legge sul sito dell'Asp di Agrigento, dovranno far pervenire l'istanza di manifestazione di interesse a partecipare al corso redatta secondo l'allegato modello A, da inviare tramite mail al seguente indirizzo dp.direttore-asp-ag.it. Il modello si trova sul sito dell'Asp di Agrigento. Il punto sulla situazione Covid, 33 positivi nel Nisseno. Il servizio. Sono 33 nuovi casi in provincia, secondo l'aggiornamento dell'Asp Nissena del 15 settembre relativo alle 24 ore precedenti. I 33 pazienti positivi al SARS-CoV-2 sarebbero tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 10 pazienti di Gela, 8 di Caltanissetta, 5 di San Cataldo, 3 di Mussomeli, 3 di Serra di Falco, 2 di Sommatino, 1 di Mazzarino e 1 di Niscemi. In degenza ordinaria si registra un solo ricovero di un paziente di San Cataldo e 2 di Missioni, un paziente di Caltanissetta e 1 di Sutera. Guariti dal Covid-19, 18 pazienti di Caltanissetta, 11 di Gela, 4 di Niscemi, 3 di Mussomeli, 3 di Mazzarino, 2 di Riesi, 2 di Serra di Falco, 1 di Delia e 1 di Vallelunga-Pratameno. In tutta Italia invece sono 17.978 nuovi casi e di questi in Sicilia 959, stando all'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, dato che si evince dal bollettino quotidiano sui casi Covid-19 scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute. L'assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro ha emanato il regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali, istituito con la legge regionale sull'accoglienza e l'inclusione approvata nel 2021. Il decreto fissa per il prossimo 15 ottobre la scadenza per la presentazione delle candidature relativa al 2022. Negli anni successivi le domande di iscrizione al registro potranno essere presentate in due finestre temporali, dal primo al 30 aprile e dal primo al 30 settembre. La processione di Nostra Signora dei Sette Dolori prevista per sabato. Il servizio. Il simulacro della Madonna Nostra Signora dei Sette Dolori sfilerà intorno alle 19 sabato 17 settembre dopo la Santa Messa lungo la via Ferdinando I accompagnata dalla banda musicale e dai fedeli. La parrocchia di San Marco ritorna dunque a celebrare dopo due anni di stop a causa della pandemia con la processione questo momento di festa organizzato dalla parrocchia guidata dal parroco dell'Antonio Lovetere e dall'Associazione Devoti Nostra Signora dei Sette Dolori. Festeggiamenti iniziati il mercoledì 14 settembre con la Santa Messa delle 18.30 preceduta dalla coroncina e Santo Rosario Meditato. Ieri pomeriggio durante la celebrazione sono state anche benedette le corone del rosario. Riprendiamo questo percorso dove tutta la comunità viene coinvolta. È la festa della Madonna sotto il titolo Nostra Signora dei Sette Dolori dove domani sabato celebriamo questo evento importantissimo per la vita di questa parrocchia dove tutti siete invitati a partecipare. La devozione popolare spessa volte si esprime proprio con le processioni non solo con la preghiera con il rosario che è tipica della Sicilia e tutta quanta ma nel nostro ambiente nel Nisseno le processioni hanno questa devozione particolare dove la gente sente il bisogno di avvicinarsi ai Santi o alla Madonna e quindi questo esprime in un certo qual modo un senso di appartenenza dove ciascuno nel proprio cuore esprime quella gioia o quella richiesta necessaria per qualche grazia particolare che ha di bisogno e così via. Questa è la prima processione che noi dopo la pandemia siamo riusciti a organizzare con la speranza che le prossime processioni possono essere realizzate. Naturalmente questa emergenza Covid ci ha danneggiato sul piano ecco organizzativo ma adesso abbiamo tanta voglia per ricominciare e quindi andare avanti su questa strada. Festa dell'aratura Borgopetilia incontrata a Pescazzo il servizio. Hanno acceso i motori dei mezzi schierati tutti insieme per l'occasione e uno dopo l'altro hanno iniziato ad erare il terreno per prepararlo ad ospitare le nuove colture. I residenti di Borgopetilia si sono dati appuntamento incontrata a Pescazzo per la festa dell'aratura. Un gesto simbolico che rappresenta un omaggio alla natura, al lavoro nei campi ma anche un momento di fede. Prima di procedere all'aratura infatti è stata recitata la coroncina in onore di Sant'Isidoro e sono stati benedetti gli attrezzi, i mezzi e gli strumenti di lavoro. I festeggiamenti in onore del Santissimo Cocefisso e di Sant'Isidoro ha una sua attrazione qui nel borgo ma anche la città è sensibile per questo momento così importante e nello stesso tempo anche necessario di sottolineare come Papa Francesco ci permette di dare maggiore attenzione al creato. È la festa dell'aratura, la festa del creato e non è una condizione ma è una gioia immensa per poter valutare l'importanza della terra ma anche degli agricoltori che con i mezzi e con il loro sacrificio esprimono questo legame voluto appunto da Papa Francesco nel dire che ogni cosa è tutta opera di Dio e con spirito di sacrificio si possono ricevere quei frutti generosi dopo un duro lavoro e una faticosa apprezzazione per poter così poi ricevere il suo frutto al suo tempo. Questa è la quarta edizione della festa dell'aratura che noi facciamo. Dico è un momento anche per ritrovarci tutti insieme, un inizio della campagna, della nuova campagna e cerchiamo di portare avanti questa bella tradizione per reglupare tutti i giovani perché oggi nell'agricoltura i giovani scappano tutti. Diamo quel stimolo di stare insieme e vicini tutti. Devozione e tradizione si uniscono nel borgo durante la festa del Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro, giorni ricchi di eventi organizzati grazie all'impegno della parrocchia e del comitato feste Associazione Pro Borgo Petilia. Ancora appuntamenti, domenica alle 18.30 il ballo del barone Lanzirotti nel cortile di Palazzo del Carmine. Indosseranno i costumi d'epoca e rappresenteranno le famiglie nobili di un tempo. Il protagonista sarà il barone Lanzirotti accompagnato dalla moglie e la baronessa Angelina Giordano. L'iniziativa dell'Associazione Arte e Tendenza, abbracciata dal comune Nisseno, prima della solenne apertura del ballo, comincerà con un cortè in costumi storici del 1850 in centro storico, domenica 18 settembre, prevedendo un omaggio floreale al busto di Tripiciano con la deposizione di una corona dall'oro. È la stessa associazione che chiede a noi, che amiamo appunto la storia di Caltanistetta, di mettere in evidenza questi personaggi importanti che hanno fatto il loro lustro e la storia. Anche perché Caltanistetta nell'Ottocento vive un momento, io direi magico, proprio è la massima espressione dell'arte e della cultura. E quindi abbiamo pensato di dedicare questo ballo dell'Ottocento in onore a un grande mecenate che fu appunto il barone Guglielmo Luigi Lanzirotti. Perché ho detto mecenate? Perché fu lui che fece tanto per la nostra città, fu anche sindaco, ma la cosa particolare è che fece studiare proprio a spese proprie, quindi un grande mecenate, al nostro scultore Michele Tripiciano. Michele Tripiciano infatti sarà il suo pupillo, ma non solo, ma anche lui a Roma, facendolo studiare a Roma, che ebbe i grandi maestri dell'epoca, darà soddisfazione al barone Lanzirotti. L'atrio di Palazzo del Carmine farà un viaggio nel tempo. Con il ballo del barone Lanzirotti si catapulterà nella seconda metà dell'Ottocento. Si cerca di mantenere viva dunque la memoria e ricordare la figura del barone, ma anche di far vivere l'atmosfera di quei balli che in quel periodo venivano organizzati anche nella cittadina nissena. Ci saranno all'incirca 40 figuranti, tutti quanti in costume accuratamente storico, quindi parliamo del 1860, quindi ci sarà anche un corteo oltre al ballo. Questi figuranti naturalmente interpreteranno tutti i nobili e tutta l'aristocrazia di quel periodo, con i famosi nomi che erano a Caltanissetta in quel periodo, di queste famiglie nobili. Il ballo è così suddiviso. All'inizio ci sarà proprio l'apertura solenne delle danze da parte dei padroni di casa, quindi l'attore che interpreta il barone Lanzirotti e la baronessa Angelina Giordano. Apriranno le danze con un waltzer solenne e poi ci saranno una serie, ci sarà anche un cerimoniere che dirigerà i balli e poi ci saranno una serie di balli dell'epoca. Parliamo di quadriglie, di waltzer, di cotillon, di polche e tante altre che non sto qui a dirvi. Ci saranno anche dei momenti musicali, quindi un soprano, un'arpista, come intermezzo durante la serata, anche un giocoliere di fuoco, perché proprio avveniva così che i nobili invitavano diversi artisti nelle loro case per arricchire il ballo. E passiamo allo sport, automobilismo, Coppa Nissena, la gara al via domenica alle 9. Entra nel vivo già oggi con le verifiche delle vetture e l'evento di Formula E in centro a partire dalle 17, la 67esima Coppa Nissena, valida per il campionato italiano di velocità montagna, che quest'anno celebra il centenario della sua esistenza. Domani sono previste le ricognizioni e domenica 18 le due gare del dodicesimo e ultimo round del campionato italiano velocità montagna. La storica cronoscalata quest'anno è valida come ultimo round del campionato italiano velocità montagna, oltre che penultimo appuntamento del trofeo italiano velocità montagna, prova del campionato italiano le bicilindriche, ottava e penultima sfida del campionato italiano velocità salita autostoriche e penultima del campionato siciliano salita per automoderne storiche. A illustrare il programma degli eventi sono stati tra gli altri il presidente dell'Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi, il presidente del comitato organizzatore Vincenzo Calandriccio, il fiduciario AC Sport per la provincia Nissena Maurizio Giugno e il direttore di gara internazionale Marco Cascino. Per la gara di Formula E prevista per le 17 di oggi in centro si potranno iscrivere concorrenti dei 14 anni in poi e sfidarsi al cospetto del campione italiano 2022 e-racing Simone Marcenò. Previsto anche un monte premi. Il presidente dell'Agi Carlo Alessi ha sottolineato l'importanza dell'interazione con tutte le figure del territorio, da quello cittadino a quello provinciale e regionale, inoltre la profigua collaborazione con la delegazione AC Sport Sicilia e il supporto del delegato fiduciario Daniele VII. L'avvocato Alessi ha poi evidenziato il lavoro dell'intero staff che ha reso possibile, tra le altre cose, la proficua promozione dell'evento al Gran Premio d'Italia in un vasto ed attrezzato stand presso l'autodomo nazionale di Monza, storica struttura con cui la Coppa Nissena condivide il centenario. Proprio il presidente della società Incremento Automobilistico e Sport Giuseppe Redaelli sarà presente a sua volta in città per la Coppa Nissena. Passiamo al calcio. Serie D, Girone I. Prima giornata di campionato, la San Cataldese impegnata al Valentino Mazzola con il Sant'Agata. L'attesa è finita. Il Girone I di Serie D al via da domenica con tutte le partite in programma alle ore 15. Per la San Cataldese un incontro ampiamente alla portata. Al Mazzola arriva il Sant'Agata, squadra che punta alla salvezza, ma da non sottovalutare. Per l'undici di Matteo Vullo la concreta opportunità di brindare ai primi tre punti della stagione in un campionato tra i più prestigiosi degli ultimi anni. Parla Claudio Calafiore, centrocampista del Sant'Agata, sulla pagina Facebook del club messinese. Sopriamo incontrare la San Cataldese che credo lotti per il nostro stesso obiettivo, cioè la salvezza. Sappiamo di incontrare una squadra molto, molto ostica, composta da gente di esperienza, gente forte per questa categoria. Quindi, ripeto, la prepareremo al meglio. La partita di cartello è comunque quella di Ragusa, dove la squadra di casa dovrà vedersela con la corazzata Catania. Gara senza storia sulla carta, con gli Etnei lanciati verso il primo successo della stagione, dopo la bruciante eliminazione della Coppa Italia ad opera della San Cataldese. Insidiosa trasferta del Canicattì sul campo della Mezzia, squadra attrezzata per stare nei quartieri più nobili della graduatoria. Le altre gare in programma, Acireale-Cittanova, Trapani-Mariglianese, Licata-Castrovillari, Santa Maria-Cilento-Locri, Realla-Versa-Paternò, San Luca-Vibonese. Ancora calcio, programma importante per le Nissene, in eccellenza, Acragas-Nissa e Gela-Enna in calendario. Sentiamo il servizio. Due partite che riportano alla memoria sfide memorabili, Acragas-Nissa e Gela-Enna, entrambe in programma domenica per la terza giornata del campionato di eccellenza. Sul derby tra Acragas-Nissa si è già detto tanto, adesso si attende il risponso del campo. Non si preannuncia certamente un impegno agevole, né per la squadra agrigentina, con un tasso tecnico di categoria superiore, e chiamata a dare continuità alle due vittorie conseguite finora, né per quella Nissena, allestita per giocarsela con tutte le avversarie, ma ancora in pieno rodaggio. Stesso discorso per il Gela, che insegue la prima affermazione stagionale, dopo due sconfitte di fila, e che tra le mura amiche affronta un'enna in grado di poter assumere il ruolo di sorpresa del girone. Le altre partite in programma Parmonval-Mazzara, Cus-Palermo-Sciacca, Castellammare-Don Carlo-Misilmeri, Oratorio-Sanciro e Giorgio-Casteldaccia, Profavara-Leonfortese, Mazzarese-Resuttana-San Lorenzo. Bene, per questa edizione è tutto. Vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Sabato, deciso cambio di circolazione atmosferica sull'ecchio continente. Via il caldo africano del Mediterraneo, invece giungerà aria decisamente più fresca. Tratta anche fredda dalla Scandinavia, dal mare del nord, sull'Europa orientale, ma lambirà anche parte dell'Italia. Insomma, si passerà dal caldo africano ai primi freschi autunnali. Nel dettaglio possiamo notare la mappa zoom precipitazioni della nostra penisola, con dei fenomeni sul nord-est, specie mattinata, giornata qui simil-autunnale. Qualche locale fenomeno anche sul basso Tirreno, ma poi in giornata temporali attesi anche sul Medio Adriatico e via via entro domenica, aria fresca che giungerà al sud con il Maestrale ed il Grecale. Notiamo come saranno giornate instabili sul nord-est e regioni centrali, soprattutto Venezia, Romagna, Marche, clima fresco, venti di Bora e Grecale. Più sole invece al nord-ovest, ma comunque ci sarà un abbassamento termico anche qui. Al centro-sud, rimanenti zone, variabilità, locali piovaschi, ma i venti ruoteranno di Maestrale e Grecale nel corso della giornata. Tutti i dettagli precisi li trovate sull'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Servizio notturno Eufrate Via Filippo Turati